Anche le forze dell'ordine, per esempio, le forze dell'ordine... Salutiamo le forze dell'ordine amiche di questo corpo. No, ma io non dico una cosa per scherzare. Io li amo proprio, i carabinieri, io li amo. Come mai ami... Cioè, adesso va bene... Amare è un sentimento forte. Come mai? Dove viene quest'amore? No, non mi fate scherzare su questa cosa. No, no. Allora, torna alla domanda... No, ma non posso, perché non posso ridurre... Cioè, per me parlare dei carabinieri mi si apre una cosa che non posso... Di amore. Non sto qui tutta la notte. Allora, non parliamo dei carabinieri, però dimmi una cosa. Se i carabinieri li ami, cosa provi per la polizia? No, ma non è... Non è questione... E la forestale? Chi? La forestale. La forestale è l'incontro a Cercafunghi. Forestale, quindi stanno qua su. No, ma non posso. No, no, allora, rispettiamoci, mancherebbe... No, ma non è questione di rispettare. No, è proprio questione dell'amore. Cioè, è un'altra cosa. Allora, non so se sai che ti intorino. Cioè, è lo stesso discorso delle morali di prima, dei dottori. A me mi serve troppo dire che sono amico. Eh no, me lo fatti. Perché quando c'ho bisogno, c'ho amici, poliziotti, cose, quella che mi possono salvare. Che ti danno la mano. In emergenza. Se faccio degli errori. Infatti. Ma non solo per quello. Non solo il ruffiano, sono amico per quello. Li amo anche per tutto quello che hanno fatto sempre. Ma non posso citare i casi, perché dallo scherzare io non riesco a scherzare troppo. I carabinieri hanno fatto, lo sappiamo tutti. Hanno dato, hanno dato vite, hanno fatto tutto. Hanno posato insieme ad altri. Non voglio fare i nomi, cose, però a me mi colpiscono. Glielo raccontavo oggi a lui. Gli occhi di Falcone, gli occhi di Borsellino, sono occhi che non si vedono. Ma non per fare quello, ha detto Falcone, applauso. C'hanno proprio lo sguardo, gli occhi, io lo dico sempre alla mia moglie, che comunque mentre guarda signorini e grande fratello, per dire, no, per dire, le merde si vedono dagli occhi. Se te li guardi bene, te ne accorgi. Lo vedi l'occhio, c'è il losco dentro. L'occhio puro, come quello, cioè puro, non trovo la parola. Ma l'occhio bello, come quello che era di loro e anche di tanti carabinieri, non posso fare tutti i nomi, poi sto facendo il discorso, sembro chissà che, sono solo un grullo. Però quegli occhi lì, io li leggo dentro, che sono i migliori, non ti sbagli mai. Ah, questo è bello. Questa può veramente bene. Questa è bellissima. Molto bella. È quello che penso. E io a me mi colpiscono, ti potrei elencare perché sono appassionato delle storie di carabinieri che hanno perso la vita in attentati, in cose minori, ma non per fare quello, capito, non per fare quello che difende, non sono nessuno per difendere. Perché proprio mi toccano a me, una passione mia, vedere come possono essere, cioè come bisogna essere per essere, per esempio, e ti potrei fare dei nomi, essere stato un carabiniere che stava in quegli anni lì e che sapeva che il 90% potevano ammazzarlo e che invece riusciva, come faceva a dormire la notte, a stare, a continuare a fare il suo cosiddetto, chi glielo dava il coraggio? Io alla minima rissettina, io mi cago addosso, cioè, capito, per dire, no? Quindi sono quasi sovrumani quelle persone lì, che sono state e che sono, e che ci sono tuttora, che ci devono essere, se no, e che si va, e che si vi va a fare? Con tutti gli occhietti marci, non c'è vita. Bello, mi piace questa cosa agli occhi. Ma no, ma no, per fare... Ma però ti dico una cosa, io prima... Ma parliamo un po' di fregna! Che ce l'ho voglia di dire questa parola! Se è il podcast sbagliato!